Cremonese e Sampdoria. Domani alle Ozzini che partita dovremo aspettarci? Innanzitutto si affrontano due squadre molto forti sulla carta, due squadre che a detta dei bookmakers sono due belle favorite per la promozione in Serie A. Sono due squadre che stanno ancora in rodaggio, che stanno ancora mettendo a posto i loro meccanismi. Infatti la Sampdoria arriva da due sconfitte e una vittoria, mentre la Cremonese una sconfitta, un paresi una sconfitta e una vittoria. La Cremonese ha quattro punti, la Sampdoria ne avrebbe tre, ma ricordiamoci che avendo due punti di penalizzazione è a quota uno. E' una Sampdoria ancora un po' titubante, soprattutto dietro. Infatti sono già cinque i gol subiti dalla squadra di Pirlo, con un Stankovic in porta che non convince. Quindi secondo me... Allora, secondo me domani sarà una partita, perché tutte le due squadre vorranno vincere, quindi con una bella partita, con... non dico tanti gol, con comunque molte azioni da parte delle due squadre. Importante, secondo me, tirare in porta, perché Stankovic, ripeto, ha fatto due errori grossolani in tre partite e quindi, brutto da dire, bisogna puntare su di lui, puntare su di lui, anche su di lui. Una Sampdoria che arriva senza De Luca, che si è fatto male nell'ultima partita, senza Benedetti, senza Conti e Barreca, terzino molto importante per la Serie B. Ma con un Sebastiano Esposito e uno Stefano Girelli, ex Cremonese in più. D'altra parte, la Cremonese, sì, dovrebbe schierarsi con un... col solito 4-2-3-1, con Sariporta, Locosvili, Bianchetti al centro, Quagliata a sinistra, Sernico a destra, in mezzo a un Rebus, perché siamo in tanti, siamo in sette per due posti. Secondo me, partiranno dall'inizio Castagnetti con Locolo. Maier, un ottimo acquisto, sarà titolare, ma domani no, non penso. Davanti, Zanimacchia, Vasquez, uno tra Felix e Buonaiuto, con davanti Bomber, Coda. Ballardini, in conferenza stampa, ha detto che per la terza volta di fila nelle sue pre-partite, appunto pre-gara, conferenza stampa pre-gara, ha detto che la voglia e la determinazione, la motivazione sarà determinante in questa Serie B. Bene, vogliamo vedere questa motivazione, anche perché lui aveva detto, i giocatori motivati restano e giocano, quali demotivati vadano pure via. Quindi, se la gente è rimasta, voglio vedere veramente la motivazione, la voglia di tornare su in Serie A. Ci saranno 9.200, 9.300 spettatori, 600-650 tifosi ospiti, quindi sarà un bellissimo clima domani, ragazzi. Domani, per il momento, sulle tre partite casalinghe, il record stagionale dell'Ozzini. E quindi, ragazzi, mi aspetto una cremo, nonostante ci sia di fronte un avversario forte, molto forte, una cremo aggressiva, vogliosa, e una cremo che punta la vittoria. Bisogna dare continuità di prestazione e risultati. Perché alla B, ricordiamoci, se perdi punti, questi punti non li recuperi più, sono fatali. Forza cremo, ragazzi, un bel pollice in su e una bella iscrizione al canale.